Come vedete dietro di me ci stanno preparando la sala operatoria per l'intervento che andrò ad eseguire in diretta per il congresso internazionale CIES a Bologna. L'intervento sarà l'intervento della tecnica da me pubblicata e standardizzata, cioè la Minimal Incision Vertical Endoscopic Lifting, il cosiddetto MIVEL, associato a impianti di cellule staminali adipociti con la tecnica SEFI, Superficile Endoscopic Fluid Ad Ingestion. Questo intervento andrà in diretta nella sala del congresso alle ore 8. Due parole sull'intervento MIVEL. L'intervento MIVEL associato a SEFI permette il ringiovanimento R3 che sta ad indicare un intervento con un riposizionamento endoscopico dei tessuti, una un ripristino dei volumi. Questo tipo di ringiovanimento di tipo mini invasivo dà dei risultati molto naturali, dei risultati estremamente soft, sicuri e duraturi nel tempo. L'intervento si può eseguire in sedazione o in anestesia generale e il ritorno alla normalità è in tempi molto rapidi perché non c'è nessuna cicatrice esterna in quanto il riposizionamento dei tessuti avviene con una procedura endoscopica.